Ora, buongiorno, come ti chiami? Mi chiamo Donato, guardami qua, mi chiamo Donato e oggi facciamo il secondo esperimento, come vedete, questa qua è una bottiglia tagliata, ci ho messo pure nell'elostico per tenere calzino, perché serve anche calzino, vero Donato? Sì, ok, come si doveva fare? Prendiamo l'acqua, prendiamo prima di tutto l'acqua, gettiamo un barattolo, forse ce ne è bisogno di più quantità, un secondo eh? Ah, caldissimo! Ancora un pochino eh? Mamma mia, ora prendiamo tutto l'acqua, un secondo ho fatto un disastro, esperimentatore! Sì! Ok, ora torniamo al nostro esperimento, si mette l'acqua, poi un po' di questo, un po' di shampoo. Che cos'è? Un po' di shampoo. Shampoo per capelli? No! O per piatti? Per piatti. È un detersivo allora? È un detersivo, mescoliamo. Però mi sembra che troppo l'acqua è presa, lui e questa bimba non ne prendeva così troppo. Poi mettiamo lo zucchero davvero. Che cos'è? Lo zucchero davvero. Per fare una parola che mi ricorda così? Il zucchero davvero? Per fare i dolci? Sì. Ok, andiamo finito. Ora versiamo un pochino. Un pochino. Te l'aiuto? No, no, ce la faccio. Ce l'ha fatto. Fatto. Basta. Oh, donato. Così facciamo qua una gigante bolla di sapone, vero? Vediamo se funziona un esperimento. Lo spero. non so, non so. Uuuuh, bellissimo! Quanti Bo 속iamo fare! Uuuuh! Uuuuh! Hai visto? Prefetto il mio mister dinosauro drago. Un secondo eh? Eccoli Eccolo qua Mamma mia, è pure bello Ma scoppia il tappo Fai ancora un po'? Sì Perché facciamo il bagno del dinosauro Metti il dinosauro qui Bellissimo Il dinosauro è un schiuma È vero? Ho fatto la dolce Schiumosa, vero? Sì Non desperare però Allora Così Abbiamo Ciao a tutti